Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questa sala, la sala San Francesco, dove più volte ci ha visti protagonisti nell'andare a raccontare la storia e la vita di Padre Pio che accadeva proprio qui. E oggi vogliamo raccontarvi di quello che è accaduto in questa sala nel 1967, il 14 ottobre. Ascoltando questa storia noi potremmo anche pensare ad una domanda, ma Padre Pio conosceva l'ora della sua morte? Infatti noi attraverso un documento straordinario che è stato pubblicato nell'ultimo libro di Stefano Campanella, I tre misteri sulla morte di Padre Pio. Si tratta di una testimonianza, di un documento conservato proprio nell'archivio storico di Padre Pio di Pia Forgione in pennelli, che consegnò al dottor Domenico Giuliani, notaio di San Giovanni Rotondo, con una preghiera, cioè quella di custodire questo plico, questo documento e di consegnarlo al superiore del convento di San Giovanni Rotondo, soltanto dopo la morte di Padre Pio da Pietrelcino. Che cosa accadeva? Il documento fu scritto qualche giorno dopo il 14 ottobre, cioè il 20 ottobre del 1967 e lei stessa di suo pugno ha scritto, dichiaro che giorni fa, precisamente il 14 ottobre del 1967 ebbe con il permesso del superiore un colloquio privato con mio zio Padre Pio, proprio nella saletta San Francesco del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, erano le 15.30 circa. Ero con mio zio da sola e dopo avergli esposto alcuni problemi relativi alla nostra famiglia, egli mi disse testualmente, fra due anni che io non ci sarò più, e a questo punto Pia Forgione lo interrompe subito, ma dice perché padre dove andrete? E lui con sicurezza e soprattutto con tanta fermezza andò ad aggiungere, fra due anni che io non ci sarò più, perché sarò morto, le cose cambieranno. Il documento termina proprio così, in fede poi sottoscritto, scritto Pia Forgione in pennelli. Il notaio Giuliani prese in consegna il plico il 13 dicembre del 1967 e lo custodì, sigillato e legalmente autenticato fino alla morte di Padre Pio, il 23 settembre del 1968. Dopo la morte, fedele alla consegna, lo affidò nelle mani del padre guardiano di San Giovanni Rotondo, il quale poi ad perpetuum rei memoriam lo conservò in archivio. Ci sembra a questo punto inutile sottolineare che dal documento fornito di ogni garanzia legale risulta con certezza che già dal mese di ottobre del 1967 e quasi un anno prima della sua morte, Padre Pio era convinto che la sua vita era giunta al termine e non si sarebbe prolungata per altri due anni. Gli eventi quindi gli hanno dato ragione. Grazie a tutti.